Nel cuore del centro storico, nella centralissima piazza San Nicola, si affaccia l'elegante Palazzo Comi, dimora dell'omonima famiglia ricordata come benefattrice e ricca di possedimenti sparsi in tutto il Salento. Si tratta di un antico palazzo a due piani, costruito nel 1755 ampliando la preesistente struttura seicentesca. L'eleganza e la sontuosità di Palazzo Comi è visibile nella facciata riccamente decorata con motivi tipicamente classici, pur rispecchiando i canoni dell'architettura civile settecentesca. Sorretta da due colonne bugnate in pietra leccese, spicca per bellezza un'arcata doppia, dalla tipica movenza settecentesca e al cui centro è sospeso un angelo. Qui la ricercata maestria di scalpellini e artisti del XVIII secolo ha dato vita a motivi ornamentali prevalentemente di natura floreale.